Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati con Tutto Sport, questa sera abbiamo davvero un ospite particolare in studio, la sua storia è davvero straordinaria. Parliamo della storia di Carluccio Bordoni, buonasera Carluccio. Buonasera, buonasera. Anche perché bisogna subito dare alcuni dati, cioè Carluccio compirà 67 anni il prossimo 27 settembre, giusto? Segno della bilancia. E alla sua età riesce ancora a raggiungere risultati di spicco a livello nazionale, tanto che lo abbiamo invitato perché è fresco vincitore del titolo italiano di maratona e anche della 100 km, Carluccio. Partiamo proprio dalla maratona, a Treviso giusto? Sì, la maratona a Treviso. Quest'anno il campionato italiano di maratona è iniziato presto, perché è stato programmato per marzo, normalmente viene fatto in autunno, quindi c'è anche la possibilità di allenarsi bene, specialmente noi qua sul sentiero Vartellina. Certo. E quindi si può programmare un certo tipo di allenamento. Quest'anno avendola fatta a marzo a Treviso è stata un po' problematica perché tra neve, ghiaccio... Certo, l'appuntamento anticipato e quindi anche la preparazione non era ancora ottimale. Certo. Nonostante ciò hai vinto. Sì, nonostante ciò sono riuscito a vincere e quindi sono riuscito a fare qualcosa di buono. E poi per non farsi mancare nulla, Carluccio ha anche vinto la 100 km a Seregno, vinto l'italiano. Sì, tre settimane dopo, perché dunque programmando la stagione non sapevo se preparare bene la 100 km o la maratona, perché diciamo sono due gare dove mi trovo meglio. Ero deciso, quindi alla fine ho scelto di fare la maratona, anche perché ultimamente riesco a fare dei tempi abbastanza buoni per la mia categoria e ho deciso di fare la maratona. E l'ho corsa, ho riuscito a vincere, però non volevo proprio neanche trascurare la 100 km. Allora, tre settimane dopo ho deciso di partecipare anche a quella, sapendo di non poter essere al massimo per fare una 100 km, perché come tutte le gare vanno preparate. Se prepari una maratona non puoi preparare una 100 km. E quindi, però mi sono deciso di fare e ho deciso di scrivermi lo stesso, ho detto vale come vada. Ho partecipato, sono riuscito a vincere. È andata benissimo. È andata benissimo, anche perché io più o meno ho stato sui miei tempi qualcosina di più normalmente. Ecco, vogliamo dire i tuoi tempi, perché ad esempio Carluccio mi diceva pochi secondi fa, prima di entrare in studio, che riesce a stare sulle tre ore nella maratona. Sì, sì, sì. Maratona, ecco, stanno fatto 3.05. Chiaro che adesso ogni anno che andrà su sarà sempre difficile, però riuscire ancora a stare sulle tre ore per la mia categoria è un buon risultato, almeno penso che sia un buon risultato, perché a livello italiano se riesco a vincere vuol dire che non ce ne sono tantissimi dalla categoria Mar 65 che fanno questi tempi. Ecco, per i comuni mortali è già difficile immaginare una maratona. La 100 chilometri cosa significa? Cioè è il doppio della maratona? 100 chilometri sono due maratona e mezza ormai. Come si fa ad affrontare una gara di quel genere? Diciamo che conta tanto la testa in questa gara. La maratona è una gara di velocità e resistenza, invece la 100 chilometri è una gara con un'andatura più lenta e quindi bisogna ragionare, bisogna far girare bene la testa. Dosare bene le forze. Dosare bene le forze, perché magari si può andare via bene, anche tranquilli per 50 chilometri, poi dopo si paga ad azio perché poi alla fine si cominciano ad essere stanchi, le gambe non girano più come prima e quindi bisogna dosare bene le forze. Carluccio diceva il maestro Mangi non è mai troppo tardi, nel tuo caso davvero è stata così. La tua storia ad atleta è iniziata tardi. Sì, sì, ho cominciato appunto a 51 anni, ormai lo sanno tutti e questo anche è un po' è un po' diciamo la cosa più 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 rilevante nel senso che perché quando uno comincia da ragazzo poi magari... Ha già una buona base sulla quale lavorare. Ecco, io ho cominciato tardi e così... Come è scattata la molla, Carluccio? Ma andavo, facevo un po' di mountain bike con degli amici, andavamo in giro così a fare qualche corsetta nel Trentino così, poi durante l'inverno la bici è chiaro che qua da noi non si può... e allora mi ha consigliato un mio amico, mi fa è meglio che vai a fare qualche corsa d'inverno che almeno quando riprendiamo la stagione sei ancora... cioè parti già abbastanza in forma, almeno fai un po' di fiato così... e così è stato, solo che poi ho cominciato a correre, la bici era stata lì. Ma vogliamo raccontare anche come ti alleni, perché sicuramente ci saranno dei segreti, ti alleni con altre persone o da solo? No, no, io da solo anche perché è difficile trovare... ho tanti amici però ognuno ha i suoi orari, ognuno ha i suoi impegni e quindi è difficile combaciare insieme... e poi oltretutto per il tipo di corse che faccio io, cioè di lunga distanza, qua in Valtellina non è che ce ne sono poi tantissimi che la praticano e quindi è difficile perché mi ha già provato, tante volte magari sto correndo sul sentiero Valtellina e mi si affianca uno e mi dice posso correre insieme? E dico beh, volentieri, poi magari parlando tra una parola o l'altra mi fa dove vai? e gli dico vado a Tirano e questo qua mi dice ciao e mi molla subito perché chiaramente non... È difficile trovare anche una lepra insomma. Eh beh sì, molto molto difficile. E però io, essendo abituato, poi anzi vado volentieri perché anche tante volte andando in compagnia poi lo succede che tu parti per fare, per dire, 40 km di allenamento, poi si mette davanti qualcuno e comincia a tirare compagnia bella, poi alla fine non va più come dovrebbe andare. Allora prevesco andare da solo che mi gestisco, mi do la mia forza. Perfetto. Alimentazione? Hai un'alimentazione particolare per gestire questi sforzi così prolungati? No, no, no. Io mangio di tutto, chiaro che... Ma anche normalmente quando non mi alleno non sono uno che mangia cose diciamo nocive. Certo, certo. Sono già uno che... Un'alimentazione valterinese insomma. Eh, bravo. Dopo è chiaro che il piatto di pizzocchi e il bicchiere di vino mi piace. Però prima della 100 km magari è meglio... No, no. Prima da 100 km almeno normalmente dicono e giustamente se è così si va per 4-5 giorni solo con carboidrati. Ah, ecco. Pasta e riso mezzogiorno e sera, pasta e riso mezzogiorno e sera e uno alla fine... Però d'altra parte se è benzina per il motore. Per il motore, benissimo. Vediamo sulla tua divisa, 2002 Marathon Club, è una società la vostra che gode di buona salute, giusto? Sì, sì, siamo un bel gruppo che ci troviamo bene e quindi tutto procede bene. Adesso stiamo preparando la mezza maratona di campionato provinciale qui a Sondrio e quindi andiamo bene. Benissimo. Grazie ancora per essere rimasto con noi e quindi ti auguriamo di fare ancora tanti chilometri. Grazie mille, grazie a voi. Grazie, buonasera. E ora passiamo al mondo del rugby. Buona notizia, si è chiuso con una bella vittoria davanti al proprio pubblico il campionato della sedatura di rugby Sondrio. I ragazzi dei coach Gorla e Nache si sono infatti imposti sul rugby Piacenza con il punteggio di 25 a 15. Nel primo tempo in meta Marazzi e Sole. Nella ripresa ad andare in meta sono stati Zampelli e Marco Schenati. Per Francesco Di Clemente dopo 18 stagioni in campo è stato l'ultimo match. Finale col sorriso anche per la Pezzini Morbegno che ha raggiunto la salvezza e resta dunque nel campionato di Serie C Silver. Parliamo di basket, ovviamente decisiva la vittoria sul parquet di D'Averio nella gara a due dei play-out. 67-60 allo Scorpio, i ragazzi di coach Busi, i gialloneri hanno vissuto una stagione in salita ma proprio nei play-out hanno dimostrato di essere squadra tenace e in grado di fare la differenza. Era l'ultima notizia, a noi c'è la nostra prossima. Con tutto Spor non manchiate!